Buonasera amici, benvenuti in un altro giorno di dieta. Ero molto indecisa se fare il voiceover o almeno al video, ma come potete sentire sono raffreddata. Sono stata due giorni che ho, soprattutto ieri, e quindi non ho avuto modo di registrare, ho mangiato veramente nulla. Oggi è stata la giornata migliore perché senza febbre, solo con tanto raffreddore, e quindi ho detto vabbè, si può fare, visto che ho fatto pranzo, cena, colazione, i tre pasti principali. A colazione ho mangiato questo mini plum cake al limone di questa marca, che è la prima volta che lo prendo, ed è buonissimo, mi piace tantissimo. E metà di questo frappuccino. A pranzo ho mangiato delle panette integrali con dei funghi, e dentro alla salsa, alla salsa, diciamo, quando ho messo i funghi ho messo anche due o tre cucchiai di panna. Si può fare ogni tanto. Quasi due giorni di digiuno ci può stare parmigiano, chili, e questo è stato il mio pranzo buonissimo. È venuta molto bene. Per cena ho mangiato purè e questi voltini di verza, fatti in frigidrice ad aria. All'interno c'è formaggio e prosciutto di tacchino. Tarkyab, qua si chiama. E sono venuti abbastanza bene, mi è piaciuto. Forse il formaggio non si è sciolto come avrei voluto, ma insomma era buono. E anche il purè è venuto bene. Non ho mangiato pane, niente, non avevo voglia di mangiare i pane. C'era il purè, quindi mi sono accontentata di questo. E la cena è stata veramente molto molto buona. Questa è stata tutta la mia giornata. Ciao ciao! Ciao!